Siamo qui con Giuseppe Cosentino della squadra Eagles, oggi avete fatto la vostra prima vittoria tu hai avuto un infortunio e a causa di questo, o per fortuna diciamo, avete fatto un nuovo innesto che è quello di Marco Mazzaglia, secondo te è stato decisivo per la vittoria di oggi? Sì, oggi comunque si ha angiato benissimo tutta la squadra, mancavano anche molti elementi della vecchia guardia l'unico che c'era era Davo che ha giocato una grandissima partita, Marco è un ottimo giocatore ci è servito tantissimo, è stato indispensabile, ma ripeto, oltre a lui oggi tutti quelli che sono stati chiamati in causa sono stati veramente fantastici, hanno giocato una grandissima partita col cuore io mi sono, è la mia prima partita da fuori dal campo, da allenatore, vuol dire che dovrò fare un allenatore in principale il calciatore nelle prossime partite, se porta bene, vediamo Questa vittoria ha aperto tutta una nuova prospettiva per voi, perché siete passati quindi alle fasi finali è matematico, non so se sia matematico, comunque sia noi la prossima partita dobbiamo fare pure cerchiamo di fare tre punti e vediamo questa è la prima volta, come dicevo l'altra volta negli intervisti, la nostra prima esperienza in questo torneo ci tenevamo a fare almeno una vittoria, a stare bene e a oronarlo per fino a quando possiamo essere qui a giocarci le partite Allora, alla prossima volta, in bocca al lupo Questo è tutto del Tre Piazzette, arrivederci Ci sono abbaruato alla fine